Sindaco, si completa la nuova squadra della Giunta Comunale con la nomina di altri tre assessori? Si, si completa con il grande lavoro che dobbiamo fare in questa città. Chiaramente gli assessori Francesca Fedeli, Frank Fedrigucci e Nicola Rossi che sono persone con esperienze molto attive, alcuni che hanno già operato come Francesca Fedeli ma nuovi assessori che si aggiungono, mi fa molto piacere perché questa città da capoluogo e con tutte le attività che dobbiamo affrontare nei prossimi anni sicuramente ha bisogno di essere attivi. Francesca Fedeli che assume il ruolo di attività produttiva, un ruolo molto importante per la nostra città perché dobbiamo stare attenti alle nostre imprese e ai rapporti con gli enti sia interni alla città ed esterni. Frank, lo chiamo così in modo amichevole come è noto in città, che si occuperà di attività sportive e di protezione civile chiaramente anche questi ruoli importanti perché lo sport assume un aspetto molto importante nella nostra città in tutto il nostro paese, chiaramente è anche protezione civile che fa capo al sindaco normalmente come primo responsabile però ecco il lavoro che va seguito perché chiaramente è un ruolo molto importante per la sicurezza dei cittadini. Nicola Rossi che è in consiglio comunale ormai da dieci anni, con un'esperienza da capogruppo del gruppo Libri per Cambiare oggi assume il ruolo di assessore con la polizia municipale che è un ruolo anche un po' complesso perché va nella direzione della sicurezza e dell'attenzione al territorio, una polizia municipale che non è solo del comune di Urbino ma è associata con Petriano e Monte Calvo e che oggi si associerà, abbiamo già gli accordi con Sasso Corvara Auditore quindi un lavoro complesso di coesione col territorio e chiaramente le partecipate, le partecipate che anche questa appunto Urbino ha tante partecipate a cui partecipa, scusandomi per il gioco di parole, che hanno bisogno di attenzione perché le nostre partecipate devono crescere, devono crescere in salute e quindi è un ruolo che ho assegnato proprio anche per l'esperienza personale che ha, quindi sono molto contento di integrare appunto la giunta del comune di Urbino con altre assegnazioni di deleghe, anche gli assessori già nominati, quindi magari poi lo diremo quando faremo la conferenza stampa con tutta la giunta, con la squadra compatta che sta lavorando e sta iniziando a lavorare per la città. Un commento dei nuovi assessori, Francesca Fedeli Una nuova avventura, ringrazio ovviamente il sindaco per questa nomina che mi fa molto onore e quindi con grandissimo impegno ovviamente ringrazio la Lega e il mio partito e il gruppo di centrodestra. Gianfranco Fedrigucci Ovviamente molto onorato, molto grato al sindaco Gambini che mi ha dato questa possibilità di poter esprimermi in settori a miei affini che è lo sport, che lo sport va dagli eventi ma soprattutto l'associazionismo, il valore dello sport all'interno di una società la protezione civile, anche quello, il volontariato, una delega molto importante fatta da persone che si prestano per il bene dei cittadini dunque siamo pronti a dare il massimo per la nostra città. Riccola Rossi Bene, entrare in giunta nella prima consigliatura di Urbino come capoluogo è sicuramente una condizione stimolante che non può che preludere al massimo impegno. Ringrazio il sindaco per la fiducia e sono contento di collaborare con tutti gli assessori. Grazie. Sì, gli assessori che abbiamo appena nominato e tutti quelli che sono stati già nominati le settimane scorse non sono gli assessori di un'appartenenza politica o di un'appartenenza civica questo l'ho detto a tutti quanti, compreso ai tre assessori attuali sono gli assessori di tutta la rappresentanza della maggioranza ma soprattutto della rappresentanza della città dell'amministrazione comunale e devono, come ho detto, come ho dato indicazione, lavorare per tutti i cittadini in modo unitario perché tutti i cittadini devono essere consapevoli che sono gli assessori e il sindaco di tutti e non solo di una parte quindi questa è una cosa a cui tengo molto perché è una cosa molto importante che dobbiamo essere coesi nella città e portare avanti il lavoro di sviluppo di questo territorio.